Berga YouTube continua la pubblicazione dei video nella playlist dedicata al greco di quinta quindi il pensiero va alle studentesse agli studenti dell'ultimano delicio classico ai quali si rivolgono una serie di video che sono dedicati alla traduzione degli autori quali gli oratori attici già disponibili una decina di video e ora invece ci occupiamo dei filosofi oggi ci occupiamo di un brano di Platone altri ne seguiranno sia di Platone che di Aristotele e ora possiamo dunque partire dalla prima operazione consueta che è quella di identificare i predicati verbali agusin terza persona singolare di ago isasin qui puntiamo in alto perché questo è oida che significa sapere è un perfetto logico vale a dire è un perfetto ma si traduce al presente poi abbiamo epainusin terza persona plurale sempre un indicativo presente da epineo altri verbi contratti poluntes da poleo è un participio presente oi onumenoi hoi onumenoi abbiamo la presenza di un participio questa volta presenta l'uscita meno i ma il verbo è deponente o neomai significa comprare ma quel che interessa è che qui c'è oi e quindi questo è un participio sostantivato poi ancora abbiamo tiche come predicato verbale e on e allora possiamo dire che tiche è un congiuntivo auristo da etichon etichon è l'indicativo auristo in questa radice che è tiche in questo tema verbale riconosco il tema del verbo che è tinchano che compare così solo con tiche perché evidentemente sia questa nasale questa ni che si scrive gamma perché seguita dalla chi sia questo an sono parte del suffisso costituiscono il suffisso del presente e c'è ancora una cosa da ricordarti che tiche tinchano si costruisce con il participio predicativo e quindi per intendersi abbiamo un on a fianco tinchano on si traduce sono per caso o mi trovo ad essere il participio presente on usa on di eimi a questo punto ritorno sopra e parto con la mia con il mio lavoro di costruzione abbiamo uto e possiamo anche cambiare colore questo uto e viene da uto saute tutto significa questi oppure costoro questo può è una forma di indefinito un avverbo indefinito possiamo renderlo con in qualche modo e poi e ne autoi ut autoi vuol dire nemmeno e questo autoi siccome si collega a utoi non vale come pronome ma vale come aggettivo autos autè autò può valere come ipse o come idem a seconda che sia preceduto o meno dall'articolo in questo caso varrebbe come ipse quindi il senso è costoro neppure loro stessi hisasin sanno torni indietro agogimon è un neutro plurale sostantivato il significato è merci ma da agogimon dipende poi questo relativo hon allora hon agusin è una proposizione relativa ma ago è un verbo transitivo come mai questo pronome figura come hon e non come ha perché è accaduta quella che in greco si chiama l'attrazione del relativo il pronome relativo per la sintassi della frase sarebbe ha cioè neutro plurale all'accusativo ma poiché è riferito un termine al genitivo ne viene attratto nel nome e allora il senso è neppure essi neppure loro stessi sanno fra le merci che trattano che conducono e quindi hon va tradotto con il relativo che le quali conducono che cosa non sanno hoti può essere inteso come una congiunzione ma può essere anche inteso come un neutro di hostis heti hoti che vale sia come relativo come relativo indefinito e anche come interrogativo quindi costoro nemmeno loro stessi sanno che cosa e poi abbiamo creston e poneron peritosoma evidentemente è sottinteso un verbo essere che cosa sia buono o cattivo questa è una età con lo spirito dolce e quindi una digiunzione che se che cosa è buono o cattivo per il corpo e painus in de ma e painus in panta ma lodano tutto te la ridico che forse è meglio premetto che sta parlando in questo testo dei mercanti evidentemente perché a gogima sono le merci e sta facendo un parallelo tra i mercanti te lo anticipo che trattano delle merci e invece i sofisti che trattano dell'educazione delle parole i mercanti della cura delle materie e i sofisti della cura dell'anima dunque costoro in qualche modo nemmeno loro stessi sanno fra le merci che conducono che cosa è buono e che cosa è cattivo quale sia buona e quale sia cattiva per il corpo ma lodano tutto vendendo né oi o numenoi né coloro che comprano da loro è sottinteso il verbo qui evidentemente è sottinteso sempre isasin ma nemmeno coloro che comprano da loro lo sanno e an me tis e an introduce una proposizione condizionale ma e an me e poi c'è tis rende più che il qualora uno non rende a meno che uno a meno che uno e tis e on non si trovi ad essere gymnasticos un esperto di ginnastica oppure un medico e quindi abbiamo la traduzione di questo primo periodo proseguiamo dunque con periagontes abbiamo hoi periagontes quindi ancora una volta un participio sostantivato un participio presente come anche poluntes e capeleuontes poi abbiamo epizimunti che è un participio presente sostantivato perché c'è il to quindi a colui che desidera sempre o che desidera di volta in volta il verbo di quel oi periagontes che vale come soggetto finalmente epainusin e di quel soggetto sopra individuato oi periagontes e poi abbiamo epainusin panta ha è un neutro plurale polusin da poleo indicativo presente terza persona plurale e poi c'è un de che evidentemente segna un passaggio oppure uno stacco nelle argomentazioni questo taha lo sottolineo subito in realtà è un avverbio vuol dire forse e il verbo invece che mi interessa è agnoien da agnoeo verbo contratto oi ti segnala che è un notativo pertanto c'è anche un an prima quindi questo è un notativo potenziale e il soggetto sarà quel tines agnoien tuton polusin ancora abbiamo un indicativo presente terza persona plurale e abbiamo ancora possiamo concludere l'analisi con oi o numenoi che è un participio presente sostantivato e anmetis che segno con lo stesso colore di sopra e anmetis sta a indicare a meno che e poi c'è ancora come sopra il participio predicativo con tiche torniamo su e vediamo che c'è uto de cai così anche oiperi agontes tamazemata il coloro che portano in giro gli apprendimenti le conoscenze quindi si riferisce ai sofisti che sono insegnanti a pagamento coloro che portano in giro le conoscenze catate spoleis e città per città quel catà a valore distributivo vuol dire nelle singole città sia sia cai poluntes cai capeleuontes sia vendendole sia vendendole al minuto quindi potrebbe essere sia vendendole sia commerciandole al minuto to ai epizimunti a favore di chi oppure a chi le desideri di volta in volta il soggetto è coloro che portano in giro le conoscenze che cosa fanno epainusin men e poi c'è tacade e quindi abbiamo evidentemente una contrapposizione lodano da una parte tutto ciò che vendono quindi vendono le conoscenze ma forse forse o carissimo o ariste è il superlativo al vocativo o carissimo forse alcuni potrebbero ignorare anche fra queste di nuovo il partitivo come sopra tuton tra queste che vendono tra le conoscenze che vendono quale sia come sopra creston quale sia buona e quale sia cattiva per l'anima ecco dunque che il discorso è portato avanti nettamente in parallelo come si comportano i mercanti e come si comportano i sofisti sopra avevamo l'indicazione del che non sanno quale sia il loro significato per il corpo mentre invece qui abbiamo il riferimento all'anima prostentichen come si conclude lo vediamo subito os d'autos significa così allo stesso modo cai oionumenoi anche coloro che le acquistano da loro evidentemente il verbo sottinteso potrebbero non saperne il valore per l'anima almeno che come sopra ean metis almeno che qualcuno non si trovi ad essere a sua volta au un medico riguardo all'anima è un'attività è un'attività ma Grazie.